Possiamo entrare? Dunque, questo è il retro del paremo. Te lo ricordavi? Noi siamo due concorrenti, vero? Siamo in attesa del nostro turno. Concorrenti, due cantanti, dillo bene, concorrenti, rischia tutto. Eh vabbè, due cantanti. Sì. Due cantanti. Sì. E siamo in attesa del nostro turno. Certo. Un nostro collega intanto sta cantando. Sei nervoso, Johnny? Io? Nervosi, fanno ridere a me queste manifestazioni, mi fanno né caldo né freddo. Né caldo né freddo. Io non ci verrei. È la mia casa discografica che insiste perché io venga. Io venga. Sì. Io preferirei essere eliminato la prima sera. Ti lo giuro, guarda, cosi o meno faccio due giorni di vacanza a spese loro. E basta così, eh. Ma che cosa fai? No, il cavallo del pantalone che è un po' stretto. Ma perché i festival mi fanno sempre questo effetto? Che cosa? Il salto. Ah. Mi fa sempre questo effetto, il salto. Ma cosa bevi? L'acqua calda. No, mi sono confusa. Confusa? Tu hai paura, guarda che faccio. Hai paura? Paura io? Sì, sì. Ma va. Ma sai che io saremo... Ho vinto tre volte. Adesso che è svenuta sappiamo anche come. Scusa, Giorgio, ma mi vuoi si incertate nell'abito? Sì, sì, non importa. Tu piuttosto sei palido, eh? Oddio come sei palido. Sei tutto bianco. Ma che importanza ha, che importanza ha? Non è a colori, no? Ah, va bene. Oh. Ma cosa fai? Cosa fai? Non vuoi aggravare la situazione? Stai qua? Basta. Astonato, astonato. Astonato, eh? Ma quello lì per forza si emoziona un bambino. Non è mica la nostra esperienza, è un matto. Applaudono? No, fiscali. Cosa fanno questi bambini? Applaudono. Applaudono, applaudono. Applaudono, applaudono. Ma ancora bevi? Ma cosa fai? C'ho la gola secca, eh? C'ho la gola un po' secca. Tu eri negli alpini. Su dici. Questa è grappa. Oh, che grappa? È acqua quella lì. Ma tu sei arcolizzata, per forza è acqua. Fammi sentire. Sì, che è? Sta finendo. Tocca a te, tocca a te. Tocca a me, hanno detto cane, hanno detto cane? Ma che cane, che cane? Cane. Hanno detto bravo, ma... Ah, hanno detto bravo, bravo. Non lo somiglia, però cane bravo. Applausi, 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 applausi. Ed ora la settima canzone in gara. Canta Johnny Dorelli. Cosa fai? Ah, scusa, credevo fosse a San Benzani. Mi dispiace darmi una spinta, non ce la faccio. Sì, grazie. Iva, questi sono tremendi, appena mi hanno visto... Eh, dove vai? A San Benzani. E' da un po'n 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 po